Questa è Piazza Repubblica con gli spalti e tutto transennato, probabilmente oggi passerà di qua la Formula 1 e quindi anche oggi via punto centrale abbastanza incasenato e più vigine adesso, tempo di merda, sulle 8 e passa, non si è appena svegliato Breathe Bravo Breathe in, breathe out 9 Finger off while doing that? Bravo Piazza Repubblica Piazza Repubblica Buon appetito! please fire bravo bump it continue bravo avala tower distrutta da un bombardamento nato e ricostruita adesso proviamo a salire in cima vedete giornata che è rimasta di merda siamo sulla cima della torre ma non vedi proprio niente anzi forse fa così alcune nuvole si spostano però per camera non si vede niente a 2 ah 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 Sto scendendo dalla torre, Anna non c'è più, quindi niente passaggi a scrocco, senza internet ancora, in mezzo al boschetto, se piovesse a dirotto sarei non nella merda di più, ah si è stamattina ore 9 e ce n'è cambio gomme perché ero solo in infradito quindi scarpe più calze e dà il pialetto ricetta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.